Un saluto a tutti i telespettatori, a tutti i cittadini di Martina Franca e dell'intera provincia ionica. Voglio proprio partire da Martina, dai miei concittadini, dalla città dove vivo, dove lavoro, dove quotidianamente trascorro più ore dell'intera giornata, però il ringraziamento va esteso indistintamente a tutti i cittadini dell'intera provincia ionica, dicevo che hanno con il loro consenso votato il popolo della libertà, dato fiducia al sottoscritto e consentito di raggiungere anche questo grande risultato. Oggi è un momento molto importante, forse è il momento più difficile che l'intera comunità nazionale sta attraversando rispetto agli ultimi 20 anni ed è proprio questo, con questo ruolo che voi mi avete dato, che assumo un impegno sia di presenza e di costanza sul territorio per consentire una vigilanza estrema sui temi che sono indispensabili per la risalita della nostra comunità, che vanno dall'economia, vanno dal lavoro, dall'ambiente e dalla salute. Sono questi temi sul quale non si potrà assolutamente prescindere da chiunque sarà a governare e da chiunque sarà formato questo governo. Martina ancora una volta ha dimostrato di essere una città moderata, una città liberale che si è stretta intorno a questo progetto, che ha visto una partecipazione enorme rispetto alle competizioni elettorali passate e che ha dato un grandissimo consenso al popolo della libertà e di questo ve ne sono grato, così come lo è stato per l'intera provincia ionica. Io ho sempre detto che la mia candidatura e successivamente la mia elezione mi piacerebbe che serva a far riunire tutti i moderati, così come lo è stata, sia a Martina ma nell'intera provincia ionica, per poter ripartire insieme in un progetto comune che ci vede vincenti nelle prossime competizioni elettorali a partire della regione, della provincia e successivamente anche al governo cittadino. Io ritengo che vi siano tutti gli strumenti, vi sia il momento giusto in cui tutti insieme possiamo ripartire e ripercorrere quello che è l'obiettivo primario, di ridare un po' di serenità a tutta la comunità dell'intera provincia ionica. Sono perfettamente consapevole di essere l'unico parlamentare della provincia ionica di centrodestra e di questo va dato merito a Raffaele Fitto, l'onorevole Fitto di quello che ha fatto per la provincia di Taranto, ma per l'intera regione Puglia. Lo si deve a lui, se è il popolo della libertà, quello pugliese è il primo PDL d'Italia. Io vi saluto ringraziandovi ancora una volta del tanto affetto e del tanto consenso che mi avete dato, ringrazio tutti coloro che hanno votato il popolo della libertà, ma ringrazio anche coloro che non lo hanno fatto per la vicinanza e la stima che hanno dimostrato nei miei confronti. Sarò, ripeto, presente sempre a vigilare e sarò vicino alle istanze di tutti i cittadini. Grazie di cuore a tutti voi, un abbraccio. Grazie. Grazie. Grazie.